EM Company, accessori per calzature, pelletterie ed abbigliamento. Via Guido Rossa 180 184 Monte San Giusto, telefono 0733 539723. Mister Cudini, una partita perfetta praticamente, nel primo tempo 3-0, nel secondo avete gestito molto bene? Sì, nella gestione sono molto soddisfatto, perfetta, all'inizio abbiamo sofferto un po' il palleggio della Piazio Nazaro, ci aspettavamo una disposizione in campo diversa, poi hanno avuto qualche defezione e abbiamo affrontato la partita all'inizio un po' non come l'avevamo preparata, però abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio e poi credo che la squadra si sia espressa ad alti livelli, è riuscito a trovare sempre trame di gioco, il possesso palla, quindi sono molto contento di questo perché stanno avvenendo dei risultati grazie anche al gioco che stiamo sviluppando e alla disponibilità che i ragazzi mi danno sempre. Peccato per la festa rovinata proprio negli ultimi minuti dal gol del Fabriano contro il Camerano. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, sinceramente pensavo che oggi, speravo che potesse rimanere la distanza di sette punti perché la nostra partita era molto difficile contro una buona squadra e invece abbiamo avuto la fortuna di guadagnare altri due punti e questo ci permette già dalla prossima partita eventualmente di poter raggiungere questo obiettivo, però le partite vanno giocate e affrontiamo sabato prossimo un Porto d'Ascoli in casa che sicuramente andrà alla ricerca di un posto pre-off e quindi sarà una partita come sempre difficile. Mister Malaventa, un 4-0 pesante e cos'è che non è andato giusto per la Biagio? Non è andato niente praticamente perché quando perdi in questa maniera devi fare soli complimenti agli avversari e dall'inizio subito un gol preso in modo ingenuo, raddoppio uguale, i primi tre gol praticamente si è rimasti fermi a guardare gli altri. Quindi le colpe sono mie perché non ci può essere un atteggiamento del genere quando vai a giocare con una squadra come la San Giustese che vincerà il campionato e faccio i complimenti alla San Giustese, però praticamente oggi non abbiamo giocato e le colpe sono solo le mie. Però comunque i bluff sono alla portata e ve la giocherete fino alla fine per questo obiettivo? No, assolutamente, ma come tutte le squadre andiamo in campo per fare sempre il meglio. Oggi previamente non siamo scesi in campo quindi già sappiamo le difficoltà con la San Giustese però bisogna fare assolutamente meglio perché ormai mancano tre partite tra cui ci sarà una sosta stranissima di due settimane ma noi bisogna recuperare, pigiare sull'acceleratore, riprendere l'energia ma soprattutto la fiducia perché non si possono regalare dei gol così. Ho tolto l'ultimo che era un tiro sotto l'incrocio però i primi tre gol veramente errori gravi ma dovuti a concentrazione quindi lì ci si può lavorare.